Un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner che dedichiamo, come ormai di consueto, alla rassegna stampa dell'ultimo numero di Le Fonti Legal, un numero, come vedremo, ricco di contenuti, a partire dalla nostra conversoria, approfondimento di copertina dedicato a un settore a dir poco strategico in quest'ultimo periodo, ma ormai da più di un anno a questa parte. Andiamo subito a vederlo. Le riforme del lavoro. Abbiamo chiesto a dieci tra i maggiori gius lavoristi italiani di fare il punto da un lato sugli interventi messi in campo in questo anno e passa in cui si sono succeduti il governo Conte da prima e il governo Draghi adesso, in questo ultimo mese e mezzo, in questo anno e passa di emergenza sanitaria in materia di lavoro, chiaramente. Dall'altro abbiamo chiesto ai nostri esperti di tracciare la roadmap che dovrebbe seguire, chiaramente, il governo Draghi da qui ai prossimi mesi. La roadmap per, diciamo, intervenire su due aspetti fondamentali. Anzitutto per fare in modo che le imprese riescono a sfruttare questa nuova ondata, questa ripartenza e dall'altro lato è necessario evitare lo scoppio di quella che può essere una enorme bolla della disoccupazione. Per cui sono necessarie, chiaramente, politiche che favoriscano il reinserimento dei lavoratori. Entriamo nel dettaglio del nostro servizio di copertina, passando al nostro secondo cartello grafico e, come possiamo leggere nell'articolo introduttivo di questo approfondimento di copertina, qui poi si susseguiranno, come potrete vedere all'interno della nostra rivista, gli interventi singoli dei giuslavoristi che abbiamo interpellato, emerge comunque in generale inequivocabile l'orientamento degli esperti rispetto alla inadeguatezza, se non addirittura controproduttività, degli interventi emergenziali. E qui il riferimento, chiaramente, è all'ex governo Conte, in particolare per quanto riguarda una delle misure più criticate dagli esperti è il blocco dei licenziamenti, perché appunto, secondo i giuslavoristi, non può raggiungere quello che è l'obiettivo promesso, cioè tutelare efficacemente i posti di lavoro, ma con tutta probabilità produrrà l'effetto opposto perché va a intaccare, diciamo, una regola aura che dovrebbe sottostare alle imprese, ovvero la flessibilità. Ecco, la roadmap invece per quanto riguarda appunto le politiche che dovrebbero essere messe in campo dal governo Draghi, anzitutto deve passare da un cambio di passo deciso, che già, insomma, si inizia a percepire. E in particolare il riferimento è anche chiaramente al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. E in particolare si deve superare il Decreto Dignità, che è chiaramente del 2018, quindi risale a tre anni fa, ormai una era geologica fa e impone ulteriori strette al lavoro a tempo determinato. E però bisogna ripassare anche dal superamento delle politiche attive e passive per favorire quel reinserimento dei lavoratori di cui parlavamo prima, per evitare appunto lo scoppio di una bolla, insomma, che sarebbe tragica, che è quella della disoccupazione. Ma andiamo oltre e passiamo al nostro prossimo cartello grafico. Abbiamo dedicato uno speciale, come appunto faremo anche nei prossimi mesi, dove dedicheremo degli speciali a dei settori specifici e, diciamo, molto importanti in questo particolare periodo. L'abbiamo dedicato questo mese al settore fiscale, cioè al tax. E abbiamo interpellato quindi avvocati fiscalisti e commercialisti sull'efficacia dei provvedimenti emergenziali, anche in questo caso, e soprattutto lo sguardo è rivolto chiaramente al futuro, quindi gli interventi necessari per il rilancio delle imprese. Se passiamo al prossimo cartello grafico andiamo a vedere proprio quali sono gli interventi, insomma, che secondo i fiscalisti che abbiamo interpellato dovrebbero essere messi in campo. Anche qua, appunto, come possiamo leggere nell'articolo introduttivo del nostro speciale, secondo gli esperti fondamentali per il rilancio delle aziende saranno nuove misure a sostegno di operazioni straordinarie come fusioni e integrazioni che in questo periodo si stanno rilanciando, ma anche nuovi pacchetti a fondo perduto per tutte quelle attività che hanno subito un brusco calo di fatturato. Poi bisogna agire sui consumi, bisogna ridare fiducia, quindi, insomma, bisogna fare in modo che il lavoratore dipendente abbia una maggiore capacità di spesa, questo chiaramente a parità di costo per l'azienda. Ecco, questo in sintesi, in estrema sintesi, ciò che emerge dal nostro speciale tax che è molto più strutturato, come potrete vedere, ma io vi lascio con l'ultimo cartellografico che è dedicato invece ai prossimi speciali che le fonti legal ha già in programma di fare su settori chiave, quali appunto quello dell'internazionalizzazione, del contenzioso, ma anche appunto del penale, i vent'anni della 231 che stiamo celebrando adesso in questo momento proprio con le fonti penale TV Week. E come partecipare? Anzitutto c'è una selezione che viene effettuata dal centro studi di Le Fonti Legal che passa al setaccio chiaramente le eccellenze per ogni singolo settore, ma è anche possibile autocandidarsi come scrivendo a presschiocciolalefonti.it che è l'indirizzo mail che abbiamo dedicato. Ecco, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Con sulle fonti TV.